HP 3008, cioè su Roblox, se l'ho stato preso, oggi dobbiamo sopravvivre, e anche, oggi dobbiamo sopravvivre, dobbiamo sopravvivere anche il cibo, oh poveri, no, no, Dio mio, vai, ahhh, via, via le patina, andiamo, andiamo! siamo andato, si! ma io sto spavendo da nulla non trovo cibo ah no pensavo che fosse che quelle cose una cosa di oddio che paura ci voglio ci voglio no mi ha visto mi ha visto mi ha visto no sto per morire no mi ha visto mi ha visto mi ha visto no un'altra volta mi ha arrivato il giorno mi ha visto mi ha visto mi ha visto cibo 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 p cimbo no cimbo 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 ok corri 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 biscotti di non biscotti di non ma che è nel 2023 siamo sullo giusto quanti cimbo diciamo 10 cimbo 10 mia 10 10 base base rubo sta basse rapino alla basse sono maranze che rubino alla basse eccolo e dai io 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 sopra 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 no eccolo vai e vai ce l'ho fatta non è stato così ma non è male questa la o 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo conosci, Poncio Pilato? A Bole. Come a Bole? È la persona che ha messo Gesù sul corsofitto. Stai registrando? Lascia mostrare. Non lo conosci, non lo conosci, non lo conosci, non lo conosci. Perfetto, è un bel... Nascondi io. Prendo questo. Poi ci metto questo. Prendiamo questa. Poi ci vediamo. Che fatica sta lavoro! Oh, non lo conosci, non lo conosci, non lo conosci. Ecco, sto costruendo il villaggio. Sto costruendo il villaggio. Sto costruendo il villaggio. Non lo conosci, non lo conosci? Aspettate che ho fame Mi mangio i biscotti della nonna Mi serve l'energia Quindi ne prendo Fatto 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 Fai ho vinto e vai ah si ho poco schifo ah si io ti prego ah porca io ti prego da me eh eh io ti ballo avanti di te io ti ballo ui shinga simba oh si oh yeah oh yeah oh yeah come è fatto dai dai no no simba no 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 Un cuore 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 finito tutto Sì Sì No No Eh no dai Ti prego No Io sento che muoio Io sento peggio Dai Via Eh no Nooo Non sento Non sento Guarda c'è stampa C'è questo C'è stampa C'è stampa Eh no Dai provi a prendermi Dai Dai Prova a prendermi Ah Bingo Bongo Mamma mi compri Bingo Bongo Ma ti che la compri Scusi negoziante Quanto costa Bingo Bongo Mille Sei Ma non è più più matto Facciamo Che stupido Troppo stupido Via Sì Sì No bravo Vai Finalmente Cosa dolce casa Mamma mia Mille 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 Ma che Sono 7 e 29 Dai 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 Tos Si Si Dove Vai che spavento mi sembrava la fine ma come l'ho fatto giusto devo usare questo oddio si grazie raga grazie di avermi dato oddio questo quanto no questo quanto no niente sono vivo la faccia tua e bella tosta e via la faccia tua e bella Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Scriviamo, non sappiamo se è inglese. Sì, sì. Mi sembrava bagattissimo. Sì. 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 Sì, ce l'ho fatta. Sì. Sì. Prima di tutto lasciamo aperto perché dobbiamo prendere le cose che ci servono. Sì. 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 Dove è la luce? Dove prendo la luce? Sì. 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 No. Sì. 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 Io vediamo questa casa sembra come Fortnite. Oh dobbiamo aspettare quando arriva la loro. Grazie a tutti. No c'è l'italiana, ciao. Io voglio assolutamente aiutare. Se è viva o vivo, perché non so se... Non sappiamo se... Vai via! Ah, siete italiani. No c'è l'italiana. No c'è l'italiana. Perché... Romani... No! Parco schifo! Non andava. Andate alla mia base. Così siete al sicuro. Sicuro. Andate alla mia base. Così siete al sicuro. Vabbè, sono tutti italiani. Sì. 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 io sono alla base alto che spavento adesso aia andiamo da là ho chiuso male sta porta stavolta questa lasciamo qualcuno sta rubando la base di qualcuno so 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Aspetta Salve Salve Sono io Perché? E va bene Lo sto facendo Lo sto facendo Aspetta Ho trovato Oddio Ho trovato le persone sconosciute maleducate Ho trovato le persone Ho trovato le persone Ho trovato le persone Ho trovato le persone Un'altra Il nostro corso vai tu l'ho trovato un'altra scorciuta vabbè mi rubi la mia base questa è mia base l'ho costruita io questa è mia base l'ho costruita io no mi sto appoggiando la giornata è perché sei qui non fai la tua base l'oddio porta porta ora facciamo una squadra quattro vabbè facciamo una squadra aile cibo aile cibi quanti anche se sei ferito ti do questo non cibi aile cibo 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 Ehi tu Aspetta Dai, apri Che succede? Non so che è successo, quindi mi sa che è finito il gioco Ci vediamo molto presto